Ciao a tutti, buona domenica, consueto video aggiornamento acquisti. Oggi tre uscite, tutte in edicola, quindi non c'è molto, però quel poco, che poi tra l'altro sono tutte letture che ho fatto in questi giorni, quel poco davvero mi ha divertito. Devo dire che sono state tre letture che entrambe, tutte e tre diverse una dall'altra, però tutte e tre che ho trovato gradevoli e sono rimasto soddisfatto. Iniziamo con quella che ho tra l'altro già fatto il video dove ne ho parlato. Sto parlando del bis di Zagor numero 759, il giudizio degli dèi. Eccolo qui, prezzo 4,90€. Chi è interessato a saperne di più su questo numero dove c'è all'opera come sceneggiatore e anche i disegni, c'è un bravissimo, non sono l'unico anche a dirlo, perché ha davvero fatto un ottimo lavoro. Stiamo parlando di Giuliano Piccinino che ha fatto sia la sceneggiatura che i disegni. E il copertino ovviamente sempre di Piccinelli e Lettri Valentina Peirano. Andatevi a guardarvi il video, devo dire che questa lettura è stata una bella sorpresa, lo spiego poi nel video opposito che poi è una mia opinione. Poi ognuno può anche non essere d'accordo, però l'importante è che ognuno qua su YouTube può dire la sua, il suo parere e poi ognuno decide se andare a acquistarlo e leggerlo oppure passa, lo lascia in edicola e si dedica a qualcos'altro. Proseguiamo, allora, qui una lettura che ho finito proprio nella giornata di ieri, sto parlando di Dylan Dog, il bis sempre, numero 454 bis, Orrore tra i ghiacci. Questa cover ovviamente è ispirata al film The Thing, la cosa, e qui vediamo un Dylan nelle vesti di un marinaio che si trova su questa nave, questo vegliero, quindi andiamo indietro. Nel tempo ognuno qui, tutti i personaggi hanno un ruolo completamente diverso dal solito, c'è il comandante che è Block, poi c'è ovviamente Grucio che è il Cuoco, però la storia ovviamente prende spunto dalla cosa. Soprattutto il remake della cosa che c'è stato, mi sembra negli anni Ottanta, che ovviamente era molto diverso dal primo film. Il primo film, quello vecchio in bianco e nero, la storia era molto diversa. Si trattava di aver trovato un disco volante, poi viene trovato questo alieno che è in un blocco congelato e poi questo alieno, lui sciogliendosi il ghiaccio, insomma è un elemento che è tutt'altro che amichevole. Quindi ci sarà poi la lotta tra questi qui, di questa base che si trova in questa zona dell'Artico e ci sarà la lotta per la sopravvivenza tra loro e questo alieno. mentre nel remake di Carpenter, però correggetemi se sbaglio, in quel film lì il remake era diverso, quindi molto più simile a questo fumetto, questa storia, dove la cosa è un qualcosa che, scusate il gioco di parole, che cerca di assimilare, oltre uccidere, poi vuole assimilare fino a riprodurre la persona umana in ogni sua parte, salvo che per accorgersi se una persona è impossessata dall'alieno, salvo prendere un campione di sangue emettere un qualcosa di molto rovente e il sangue, questo sangue qui ha una reazione completamente anomala. Quindi da qui si riconosce se l'alieno si è impossessato di un corpo e se ne ha preso le sembianze. Questo praticamente questo scenario lo vediamo qui in Dylan Dog dove l'inizio praticamente voi leggete l'alieno stesso che si è impossessato di chi? Non vi voglio dire tutto perché sennò vi rovino la storia, però poi lo scoprirete e quindi vi racconta passo dopo passo le sue sensazioni e quello che cerca, quello che vuole fare e cosa accadrà su questo belliero. Quindi una bella storia, devo dire che tipica poi, i bis sono sempre cose un po' fuori dai canoni, come abbiamo visto anche in Zagor, anche qui in Dylan Dog, una storia che mi ha convinto e soprattutto sono rimasto soddisfatto perché è una mezz'ora di lettura davvero piacevole, adatta proprio da leggere in questo periodo di, magari se siete in vacanza, beati voi, oppure volete concedervi una mezz'oretta di relax, leggetevi questa storia di Dylan Dog, orrore tre ghiacci, 4 euro e 90. Ovviamente adesso dopo tutte queste chiacchiere vi leggo i consueti crediti. Allora, personaggio ovviamente creato da Tiziano Sclavi, soggetto sceneggiatura Bruno Enna, disegni di Silvia Califano, che devo dire che è davvero molto molto brava. Copertina di Gianluca e Raul Cestaro, Valentina Peirano è l'addetta al lettering. Quindi i disegni di Silvia Califano, vediamo subito qualche tavola che davvero mi sono davvero piaciuti. Questo è l'inizio dove c'è questa genesi dall'alieno che dal suo punto visivo, ecco infatti qua vediamo quando viene ritrovato, questo è il viso di chi lo ritrova, del malcapitato che sarà poi la sua vittima. E poi molto belle anche queste tavole di azione, dove c'è l'alieno all'opera. Ovviamente i disegni ricordano molto quelli del film, del remake della cosa. Ora non so se anche a voi, nei vostri numeri, io ho trovato queste pagine così, un po' sbiadite. Io penso che sia voluto, non so, ditemi se anche nei vostri numeri queste pagine apparivano un po' sbiadite. Ecco così. Comunque qui queste sono le tavole della bravissima questa disegnatrice Califano, che uno dirà sarà parente di Califano, no, non ha niente a che fare, però è una disegnatrice, un artista davvero, molto ma molto brava. E poi qua, ecco qui c'è Dylan, questa è la prima apparizione di Dylan, questo numero, che lui è il secondo ufficiale di questa nave, questo vegliero. Poi c'è Block, insomma, davvero una bella storia, piacevole, mi ha soddisfatto, quell'orro, devo dire, che ci sta. Non ho trovato nulla da ridire su questa storia. Ovviamente non poteva mancare la bellona di turno, che Dylan non si farà scappare. Ecco qui, ci sarà Dylan l'opera con la bellona di turno. Anche in questo caso c'è sempre una bella ragazza a disposizione di Dylan. E poi, niente, è una storia che non voglio aggiungere altro, però mi è piaciuta. Guardate questa cover, davvero, se per adesso non l'avete acquistato, perché non sapete se se ne vale la pena o no, io decisamente sono per il sì, perché quando leggo e mi diverto sono sempre fumetti da acquistare. Assolutamente. Andiamo avanti e qui c'è davvero da parlarne e molto, perché ho letto questo speciale di Teth Wheeler, stella d'argento, 128 pagine, prezzo 6,90 euro, eccolo qui. Bellissime queste cover, ma anche l'impostazione di questi speciali così, tutto rosso, con questi disegni, queste cover davvero belle. Io sono, oltre che la serie di Teth Wheeler, giovane Teth Wheeler, ma anche questa qui degli speciali sono davvero fatti bene e li pagherei, sarei disposto anche a pagarli di più, soprattutto quando si tratta di storie come questa. Vi ricordo che è il numero 8 della serie degli speciali e vediamo un po' i crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura, Giorgio Giusfredi, disegni Pasquale del Vecchio, copertina Maurizio Dotti, lettere in Luca Corde. Quindi qui nomi davvero da applausi, tutti nomi da applausi, così che solo leggere i crediti uno già si prepara a leggere qualcosa davvero di bello. Poi quando c'è Giusfredi, che insomma è un bravissimo, mai si sono esauriti i termini per dire quanto è bravo questo autore, che è davvero eccezionale. Beata Labonelli che ce l'ha, che davvero è un grande. Vediamo un po' la storia. Allora, qui inizia che c'è questo indiano, siamo nel 1856, quindi è una storia che riguarda Kit Carson quando era giovane, e c'è questo ranger, Shepard, che ha questo incontro con questo indiano e da qui c'è questo scontro dove la peggio ce l'ha il pelle rossa, che verrà addirittura scalpato, scalpato da questo ranger, cosa che di solito non è una cosa, quello di scalpare il nemico non è certo una cosa che fanno i ranger, soprattutto i ranger, quali i veri ranger. Quindi già da qui si capisce che abbiamo a che fare con un personaggio davvero molto losco. E poi qua, qualche tempo dopo, siamo a Beardsville in Texas e c'è Kit Carson che, eccolo qui. Kit Carson che è qua insieme, insomma, lui si troverà coinvolto in un attacco, c'è alcune pelle rosse che danno la caccia ai bisonti e a un certo punto si troverà lui stesso coinvolto, però per altre faccende si troverà circondato da questi indiani perché questi comance che erano molto, ma molto, erano sul piede di guerra e in quel momento lì c'era molta tensione tra i coloni e le tribù, queste tribù come appunto i comance che, allora Kit Carson si troverà faccia a faccia con il capo di questi indiani. Il suo nome è un nome che poi lo ritroveremo qui perché ha, dunque, adesso non lo... Si troverà al cospetto di questo capo anche perché lui poco prima salva uno dei figli, uno dei figli che è molto giovane e lui interverrà e salverà questo ragazzo. Fatto sta che quando si trova al cospetto di questo capo, lui si troverà che il suo nome è Cuore Splendente e poi capiremo anche perché lo chiamano così, si troverà al suo cospetto e gli verrà graziato Kit perché ha salvato poco prima il figlio di questo Cuore Splendente. Lui gli chiede sai chi sono io? Lui dice sì, sei Cuore Splendente e sai anche perché mi chiamano così? Perché al suo petto ci sono tutte queste stelle di ranger qui sul suo petto che lui ha ucciso. Quindi era questa tribù molto ostile e una nemica soprattutto dei ranger. lui viene salvato e viene graziato praticamente e poi dopo la storia prosegue e andando avanti ci sarà l'incontro tra Kit Carson e il ranger Shepard che abbiamo visto all'inizio del racconto, quel ranger che scalpava quell'indiano, è davvero un personaggio davvero molto ambiguo e allora ci sarà questo incontro e si verrà a sapere che Kit Carson era stato poi mandato per investigare su questo personaggio perché c'erano delle voci e si volevano delle conferme per sapere che questo personaggio aveva alcune cose che non andavano. Quindi lui era lì per indagare che cosa stesse combinando Shepard e per poi riferire ai loro capi. Fatto sta che poi sono insieme, c'è ancora l'attacco di alcuni indiani, si vedrà una persona che è in pericolo, loro intervengono, interviene anche Kit Carson, Kit Carson tra l'altro perderà il suo cavallo, interverrà in difesa di questa persona che era attaccata dagli indiani e scoprirà che è una ragazza, una ragazza dal nome Evi che è la figlia di Shepard. Una cosa bella che poi tra l'altro già si nota che c'è un certo rapporto tra Evi e il padre è un po' molto duro e lei viene trattata non proprio prima di tutto perché era una donna quindi soprattutto nel West le cose non erano certo come oggi, ma poi Kit Carson capisce che questa ragazza è una ragazza in gamba che tra l'altro aveva convinto addirittura il padre a dargli un fucile da portare con sé. Lui l'ha fatto il padre però a mal in cuore perché non voleva ovviamente che andasse in giro e anche perché era molto rischioso, c'è anche da capire anche quello, però si intuisce già che c'è qualcosa tra di loro che non è certo così rose e fiori. Una cosa poi interessante è che questa ragazza ha nel tamburo di questo fucile una... praticamente ci sono dei disegni disegnati nel tamburo che girando fanno vedere una scena come il cinema di una volta, no? quelli che... c'erano queste immagini messe in queste... di solito erano delle lampade e c'erano questi disegni messi attorno che poi fatto girare questo cappello con una luce dietro veniva proiettato come se fosse davvero che si muovessero, che c'era questo movimento. Quindi era un po' quei cinema... mi sembra che erano i cinema quelli giapponesi, cinesi, cinema cinese antico usavano questo sistema. Adesso mi sfugge il nome però magari qualcuno gentilmente magari me lo scrive qua sotto. e nasce questa amicizia tra Eve e Kit Carson, un'amicizia davvero bella anche se poi Eve gli fa capire che... viene a sapere che è fidanzata, fidanzata con un soldato che poi conoscerà anche Kit che è in un forte dove accompagnerà questa ragazza anche perché era rimasta ferita, e faranno questa amicizia, una bella amicizia e la storia andrà avanti. Andrà avanti e poi ci saranno questi... questa tribù di Comace che circonda il forte anche perché hanno notato che Kit Carson aveva questo cavallo che apparteneva a uno della tribù che era scomparso, che era stato... era quello che era stato scalpato all'inizio del racconto da Shepard. Proseguirà la storia con Kit Carson che continuerà a cercare di capire quello che sta accadendo non solo tra Shepard e gli indiani perché lui è lì per indagare questo ranger, ma poi lui si spingerà anche ad orto e si troverà poi a dover affrontare di nuovo ancora la tribù che aveva trovato all'inizio, quella di Cuore Splendente, e però questa volta verrà catturato, verrà catturato anche perché aveva questo cavallo, un cavallo Comace, quindi hanno capito che lui c'entrava con qualcosa, con quello che era accaduto prima. Non voglio dirvi altro perché poi la storia è talmente bella, ogni parte di questo numero merita di leggere senza sapere che cosa accadrà. Vi dico solo che a un certo punto della storia ci sarà un momento davvero poi toccante perché questa storia andrà avanti, ci saranno poi questi disegni anche dove che lui, Kit Carson, lui vede questi cavalieri, questi indiani che hanno il posto della testa umana, hanno una testa animale, lui queste visioni le avrà quando lui viene preso prigioniero dai Comance e poi c'è un finale davvero molto toccante che non voglio anticiparvi nulla. E poi, scusate, l'ennesimo e poi, ah vi dico già che nessun, ci sarà Tex Wheeler anche quindi non pensate che questo numero dedicato a Kit Carson sarà, però poi vedrete che apparirà e il finale davvero io l'ho trovato uno dei più bei finali che ho letto soprattutto in questi ultimi anni. Io non posso che complimentarmi con Giustredi che faccio tutti i miei complimenti e quando leggo questi speciali io li pagherei anche di più perché davvero meritano completamente la spesa. Se siete indecisi se acquistarlo o no io vi dico che questo davvero vale più di tutto quello che vi ho fatto vedere perché è una storia davvero che se la leggete non sarete d'accordo con me che siamo di fronte a un qualcosa, a una lettura di quelle che capitano purtroppo non spesso ma quando capitano bisogna assaporare, leggerle e godersela davvero perché è tanto di cappello all'autore e anche al disegnatore perché ci sono delle tavole davvero molto ma molto belle. Quindi che dirvi, non mi resta che salutarvi, io spero, a volte sembra quasi che esagero quando sono entusiasto però in questo caso devo dire che queste tre letture mi hanno davvero soddisfatto e tenuto compagnia in questo periodo così caldo d'estate. Vi saluto, vi do appuntamento prossimamente qui nel mio canale. Alla prossima, ciao!